Chiamavo o cambi o muori e da allora ad oggi ci sono state aziende che sono cambiate e altre che non sono state in grado di comprendere questa evoluzione del mondo, perché se ci pensate ha trasformato davvero tutto e questo è quello che è avvenuto sino ad oggi, però c'è dell'altro, perché oggi ci sono anche nuovi confini, nel senso che sta cambiando anche il modo in cui ci relazioniamo, lo sapete, le distanze sono un problema minore, siamo più veloci, il mondo è più grande, conosciamo amici che sono dall'altra parte davvero del globo, compriamo da aziende che sono anche loro in un altro stato, insomma abbiamo parte della nostra vita online.